Torre San Venanzio La torre Gentilizia è stata riadattata a campanile della chiesa di San Venanzio, con l'aggiunta di una cella sulla sommità. L'esile e bella costruzione ha il pregio di aver conservato intatta la doppia cornice di conci forati lungo il perimetro superiore, che servivano per armare un'ulteriore struttura difensiva a terrazza.